Buonasera, sono Antonella Bruzzese, Politecnico di Milano, insegno urbanistica e sono qui per provare a porre alcune questioni rispetto al post-expo. La storia delle expo hanno dato come esito situazioni molto diverse. Il sito di Hannover 2000 oggi è un pezzo di città abbandonato, l'expo di Lisbona ha dato come esito una parte nuova di città. Che cosa succederà a Milano il primo novembre 2015 quando i cancelli di expo saranno chiusi è una questione che è urgente, che è diventata ancora più rilevante pochi giorni fa quando la gara per l'assegnazione dell'area è andata deserta. Questo significa che al momento non c'è un operatore che può addossarsi dei costi delle aree per immaginare e sviluppare un progetto per il post-expo. Questo pone delle questioni importanti appunto all'amministrazione pubblica e alla gestione del dopo evento che almeno dovrà affrontare tre questioni. La prima è quella di quale futuro per l'area e ricostruire una visione per quest'area capace di collocare expo all'interno di un contesto territoriale più ampio che non sia solo ricondotto al suo recinto. La seconda questione riguarda chi gestirà l'area e la trasformazione. Are Expo che al momento si è occupato della sola vendita delle aree potrebbe diventare il soggetto che gestisce in qualche misura e coordina una trasformazione complessa fatta per tempi differenti e secondo un processo incrementale che forse può essere in grado di dare risposte in maniera più efficace di quanto non sia la vendita ad un operatore unico come è accaduto fino adesso. La terza questione riguarda invece lo strumento e quindi che tipo di masterplan e che tipo di strumento urbanistico potrà essere in grado di gestire una trasformazione e dunque di essere uno strumento capace di governare un processo e non solamente un progetto, un processo che deve partire dalla chiusura di Expo e che probabilmente si protrarrà a lungo.